in nomine patris et fire spiritus santi amen gesù ti amo con la tua volontà viene divina volontà a pregare in me poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature mia divina maria ti amo nella divina volontà regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia per chiederti che sospiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sono una regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino estretto la mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e qua mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di dio e come vivere in essa ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui jesus santa maria mater dei ora pro novi speccatoribus nunc et in ora mortis nostre dal libro di cielo volume 33 19 marzo 1935 la volontà divina e l'umano volere due potenze spirituali facilità di chi vuol possedere la divina volontà come vita come gesù non insegna ne vuole cose impossibili mi sento come travolta nelle onde eterne del volere divino sento il moto continuo che come vita mormora continuamente ma che cosa mormora mormora amore e dà amore a tutti mormora e felicità mormora e fortifica mormora e dà luce mormora e dà vita a tutti conserva tutti e forma l'atto di tutti investe tutto coinvolge e nasconde tutto in sé per darsi a tutti e ricevere tutto o potenza del volere divino o come vorrei possederti come vita nell'anima vivere di te per non conoscere altra vita che la tua ma o quanto ne sono lontana troppo ci vuole per giungere a vivere di volontà divina ma mentre ciò pensavo il mio dolce gesù la cara mia vita sorprendendomi tutto bontà mi ha detto figlia mia benedetta dimmi che vuoi vuoi tu che la mia volontà regni e viva in te come vita se veramente lo vuoi tutto è fatto perché tanto il nostro amore del desiderio ardente che la creatura possiede la nostra volontà come vita per farla vivere di essa che come la sua volontà umana veramente lo vuole così la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formarvi la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro tu devi sapere che la volontà divina e l'umana sono due potenze spirituali la divina è immensa c'è una potenza inarrivabile l'umana piccola potenza ma per quanto piccola ha la sua potenza ed essendo ambedue spirituali l'una si può riversare nell'altra e formare una sola vita tutta la potenza sta nel volere ed essendo la volontà umana potenza spirituale tiene spazio di poter mettere dentro della sua volontà il bene che vuole ed anche il male sicché ciò che vuole la volontà quello si trova dentro di sé se vuole la propria stima la gloria l'amore e piacere alle ricchezze si troverà dentro il suo volere la vita della stima propria della gloria la vita di piacere delle ricchezze se vuole il peccato anche il peccato formerà la sua vita molto più se vuole la vita della nostra volontà nella sua voluto questo comandato da noi con tanti sospiri se davvero la vuole avrà il gran bene di possedere la nostra volontà come vita e se ciò non fosse la santità del vivere nel mio volere sarebbe una santità difficile quasi impossibile ed io non so né insegnare cose difficili né voglio cose impossibili anzi è mio solito facilitare per quanto è possibile la creatura le cose più ardue e i sacrifici più duri e se occorre ci metto del mio per fare che la piccola potenza del suo volere venga sostenuta aiutata animata dalla invincibile potenza del mio e così rendere facile il bene o la vita del mio volere che vuole possedere la creatura ed è tanto il mio amore che per facilitarla maggiormente le sussurro all'orecchio del cuore se vuoi farlo davvero questo bene lo farò io insieme con te non ti lascerò solo metterò a tua disposizione la mia grazia la mia forza la mia luce la mia santità saremo in due a fare il bene che vuoi possedere però non ci perciò non ci vuole troppo a vivere della mia volontà il troppo sta nel volere se questa si decide e lo vuole fermamente e perseveramente già ha vinto la mia e l'ha fatta sua oh quante cose può racchiudere l'umano volere essendo potenza spirituale che molto raccoglie e nulla sperde si rassomiglia alla luce del sole quante cose non racchiude il sole mentre non si vede altro che luce e calore eppure bene che racchiude sono quasi innumerevoli e si vede che come tocca alla terra così comunica bene i mirabili eppure non si vede altro che luce tale la volontà umana quanti beni non può racchiudere se vuole può racchiudere amore santità luce riparazione pazienza tutte le virtù ed anche il suo stesso creatore essendo potenza spirituale tiene virtù e capacità di racchiudere tutto ciò che vuole e non solo tiene la potenza di racchiudere il bene che vuole ma di trasmutarsi nel bene che racchiude sicché la volontà umana si cambia nella natura del bene che vuole ed ancorché molte cose che veramente vuole non le faccia nella volontà restano come fatti e si vede che all'occasione di fare quel bene che voleva possedendone la vita con prontezza con tutto amore senza punto esitare fa quel bene che da tanto tempo voleva fare simbolo del sole che non trovando né il seme né il fiore non dà né il bene di maturare il seme né il bene del colore fiori ma non appena gli viene dato di toccarli con la saluce possedendone la vita da subito maturazione al seme il colore fiori la volontà umana possiede con caratteri incancellabili tutto ciò che fa e che vuol fare e se la memoria dimentica la volontà nulla perde contiene il deposito di tutti gli atti suoi senza che possa sperdere nulla perciò si può dire che tutto l'uomo sta nella volontà se questa è santa anche le cose più indifferenti sono sante per lui se poi è cattiva anche il bene si cambia per lui un atto perverso quindi se vuoi veramente la mia volontà divina come vita non ci vuole troppo molto più che unita alla tua c'è la mia che lo vuole c'è una potenza che tutto può e da parte tua si vedrà coi fatti se in tutte le cose ti comporterai come posseditrice di una volontà divina perciò sia attenta figlia mia ed il tuo volo sia sempre continuo nel Fiaz Supremo benvenuti in questa bellissima meditazione di oggi credo che il Signore venga a consolazione di molti spiegando come vivere nella sua volontà è possibile e a pensarci bene non è proprio troppo troppo difficile lui stesso lo afferma ovviamente ci sono tanto una serie di passaggi che bisogna ben comprendere perché difficile no ma certamente banalizzare nemmeno però oggi il Signore ci dà tante belle tante belle notizie il contesto di questo scritto è sempre importante perché Gesù di fatto nello scritto risponde ad un sospiro d'amore di Luisa che si sente travolta nelle onde del cuore divino e comincia a sentire queste mormorazioni che adesso le ripercorreremo e poi le scappa questa aspirazione questo desiderio come vorrei possederti come vita dell'anima vivere di te per non conoscere altra vita che la tua ma quanto ne sono lontana troppo ci vuole per giungere a vivere di volontà divina personalmente fino a troppo ci siamo lontani ci sono lontana fra sottoscrivo quando si pensa almeno quando io penso a questo mondo io mi rappresento sempre come una sorta di sogno d'occhi aperti un sogno d'occhi aperti sempre con la segreta speranza che i sogni sono tutti quanti i desideri e a volte raramente qualche splendido sogno diventa realtà speriamo personalmente per l'idea abbastanza alta che mi sono fatto di questa cosa poi le lasciamo al Signore accolgo anche tutto quello che Gesù dice oggi speriamo diciamo così poi ognuno certamente nel silenzio della sua preghiera si metterà davanti al Signore e dialogherà pregherà su questi su questi punti Gesù dice figlia Benedetta dimmi un po' Gesù dice proprio così tu vuoi che la mia volontà regne vivente come vita se veramente lo vuoi tutto è fatto tutto sta a comprendere quel veramente lo vuoi e me lo chiedo anch'io è soltanto un atto di volontà cioè decisa o implica anche qualche altra cosa certamente vivere di volontà divina la rinuncia al peccato amici cari la implica immaginiamo adesso non voglio fare immaginiamo un peccatore una persona che un peccatore ed hoc insomma un peccatore di miseria e debolezza che dice ah sì io voglio io voglio con tutto mio senso vivere di volontà divina e poi sta ancora nelle situazioni che ne sono la la contraddizione in termini no non si può e credo che questi requisiti di base come del resto Gesù spiega si vogliano quindi presumo che qui Gesù stia parlando di un'anima che già sta in grazia e e però desidera ardentemente questa cosa e però personalmente io mi sento lontano anni luce dalla veramente non sto scherzando dalla perfezione lo vedo in continuazione no quindi e tante volte insomma inserà anche il Vangelo di ieri dell'altro ieri siate perfetti come è perfetto il Padre vostro quindi Gesù questa cosa la chiede no la vita nella volontà è la santità delle santità quindi a me capita che vedendo così in perfetto dico ma chissà e però Gesù dice che se la volontà umana veramente lo vuole la nostra riempie l'umano volere del nostro supremo volere per formarvi la sua vita e vivere in essa come nel suo proprio centro veramente lo vuole quindi questa è la parola chiave bisogna vedere che significa veramente lo vuole tutto sta l'interpretazione di questa di questa frase di Gesù no ce lo vuole in verità quindi mia mamma diceva che ci sono quelli che cercano lavoro e credo a Dio di non trovarlo vorrà dire questo Gesù quindi veramente lo vuole nel senso che si fa un atto di volontà risoluta e poi nel resto della vita cerca di starci nella volontà di Dio per quanto la conosce per quanto lo sa rimuovendo tutto quello che in qualche modo la porta fuori la porta lontano la porta distogliersi dopo di che Gesù fa un elogio della volontà umana questo non dobbiamo mai dimenticare addirittura giunge a dire verso la parte finale che tutto l'uomo sta nella volontà e se ci pensiamo è così perché quello che noi vogliamo dalla mattina alla sera è quello che poi specifica caratterizza tutta la nostra persona il nostro interno dice Gesù cosa vuoi alla volontà umana che vuoi vuoi i piaceri l'amore ai piaceri e quello ti ritrovi dentro vuoi la stima e quello ti ritrovi dentro vuoi la gloria vuoi le ricchezze e quello ti ritrovi dentro vuoi il peccato e quello ti ritrovi dentro proviamo a pensarci è indubbio che la vita degli esseri umani anche se molte volte noi non vogliamo prenderci questa responsabilità non ci piace non granché ma guardate che la nostra vita oggi va così come noi abbiamo voluto che andasse detto proprio in termini proprio molto 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 grosaici quindi quindi se ci pensiamo le cose stanno veramente così è quello che noi vogliamo che ci determina certo tutti quanti noi sappiamo che la nostra volontà non è che le nostre scelte sono proprio così la nostra volontà è come dire sovrana è perfettamente padrone quindi sceglie in come dire in pienissima libertà in perfetta lucidità in totale autonomia qui c'è tutto quanto il groviglio della nostra persona perché il diavolo fa la vuole tentazione poi ci sono i contesti in cui viviamo la pressione di chi ci sta intorno le cose che fa la maggioranza sono tanto una serie di come dire di di figli che in qualche modo tirano la nostra volontà la tirano però ricordiamo sempre che non la costringono la tirano però la sballottano a destra e a sinistra e quindi in questa vita terrena ci sono queste cose piano piano io credo che sia molto importante per noi imparare a usarla bene questa nostra volontà umana perché qualunque su qualunque oggetto si posa qualunque scelta noi facciamo a che piccola questa c'ha dei riverberi interiori sempre non c'è niente da fare è così funziona così e quindi Gesù in vita sposta l'asse della tua attenzione sposta il cuore sposta l'energia sposta come dire la bussola di tutti quanti i desideri su cosa sul gran bene di possedere la mia volontà perché se davvero lo vuoi ancora una volta se veramente o se davvero lo vuoi lo avrai qui Gesù dice una cosa molto importante io ricordo bene una predica di San Girolamo a riguardo dice guarda che io non chiedo non insegno e ne voglio cose impossibili San Girolamo diceva che guai a chi dice che è impossibile osservare i dieci comandamenti perché Dio non chiede cose impossibili sarebbe un assurdo no? cioè se mi chiede una cosa che io non posso fare chi me la chiede a fa? cioè me la chiede soltanto per mettermi in difficoltà per mortificarmi per umiliarmi se quella cosa non è alla mia portata io come faccio a farla? no? e quindi se il nostro signore ci sta come dire allettando invitando esortando con scritti su scritti volumi su volumi vuol dire che questa deve essere una cosa possibile dobbiamo crederci se ciò non fosse dice Gesù quindi che se vuole la vita della nostra volontà nella sua se davvero la vuole avrà il bene di possederla la santità del mio vorere sarebbe una santità difficile quasi impossibile ma io non so né insegnare cose difficili né voglio cose impossibili al contrario dice Gesù il mio solito facilitare per quanto è possibile la creatura certo purtroppo i beni ardui in questa vita esistono questo che esiste la virtù cardinale della fortezza però da parte del Signore dice io cerco di facilitare per quanto è possibile anche le cose più alte sacrifici più duri ci metto pure del mio per fare che la piccola potenza del suo volere venga sostenuta animata aiutata dall'amicibile potenza del mio e così rendere facile il bene o la vita del mio volere che vuole possedere la creatura quindi sono parole molto molto incoraggianti dire che il Signore è con noi ci aiuta e dice se vuoi farlo davvero questo bene lo farò io insieme con te non ti lascerò sola metterò a tua disposizione la mia grazia la mia forza la mia luce la mia santità e ancora continua non ci vuole troppo a vivere nella mia volontà il troppo sta nel volere se questa si decide e lo vuole fermamente e perseveramente vedete la fermezza e la perseveranza però quindi queste cose ci vogliono già ha vinto la mia e l'ha fatta sua la fermezza e la perseveranza non stancarsi no? ecco perché poi come sappiamo certamente la vita nella divina volontà qualche impegno chiamiamolo così qualche attenzione la comporta e non è facile acquisire questi impegni e queste attenzioni è possibile scoraggiarsi no? voglio vedere chi è che se qualcuno lo fa lo ammiro e dico beato lui e veramente lo vendero lo stimo e lo stimo come assolutamente a me superiore certamente lui sa presumo che facesse qualcosa del genere però chi è che riesce a stare immerso 24 ore H24 nella divina volontà a fare veramente proprio tutti gli atti fare tutti gli atti attuali tutti cioè oltre all'atto preventivo riesce poi davanti alla giornata a mettere tutto quello che fa con un atto cosciente e volontario nella divina volontà se qualcuno lo fa ripeto tutta quanta la mia ammirazione non è tanto semplice almeno a me non sembra tanto non tanto non dico da tanto semplice non voglio dire neanche tanto facile perché non voglio oltre a dire il signore però la mia esperienza personale mi dice che che quale quale canzone abbiamo introdotto questa meditazione ma magari direi nato zero magari tutti gli atti tutte le cose non stesse altro che a pensare sempre a lì a stare in quel contatto magari attuale con il signore però può darsi anche oggi stiamo andando una meditazione un po' particolare scusa può darsi anche che questa è la mia come dire è la mia percezione è la mia rappresentazione della vita nella divina volontà ma forse non è esattamente così forse non è necessario che si dia questo per poterci vivere no? è sempre meglio stare a quello che che dice Gesù per esempio qui c'è una una spia no? la volontà omana si cambia si cambia nella natura del bene che vuole e ancorché molte cose che veramente vuole non le faccia nella sua volontà restano come fatte facciamo un esempio vorrei fare una grande opera buona una grande lemosina ma in questo momento non c'ho le possibilità perché c'ho magari la possibilità solo di c'ho lo stretto necessario non mi posso permettere vorrei fare una grande opera per il Signore che ne so partecipare a questa grande opera per lui ma non la posso fare ma se la volontà dice Gesù veramente vorrebbe farlo e non lo fa solo perché non può non perché non vuole è come se l'avesse fatto e la prova di questo sarà che quando capiterà l'occasione di farlo cioè te regalano 10 miliardi di euro immediatamente la prima cosa che fai farai quella opera che vuoi fare però purtroppo in questo momento sto in condizioni di salute che non me lo consentono che faccio non me lo consentono io ho anche il dovere davanti a Dio di custodire non dico di fare il salutista malato di mente maniaco però noi la salute non possiamo togliercela a meno che non ci siano chiamate straordinarie dell'altissimo questo bisogna fare discernimento col padre spirituale perché qualche santo Gesù gli era chiesto ma sono cose rarissime ordinariamente non si procede in questo modo a questo momento dici io non lo posso fare non è che non lo voglio fare non lo posso fare qual è la prova? appena queste circostanze concrete se dovessero cambiare cambiano uno ricomincia a fare come prima meglio di prima capite? quindi questo è per esempio una una buona spia invece se ci viene un'ispirazione di fare un bene possibile quindi che io in questo momento lo posso fare e però magari non lo faccio per negligenza questo è un pochino più un pochino più problematico quindi questo potrebbe essere una spia che forse quel veramente vivere nella divina volontà vacilla un po' difetta un po' manca un po' manca un po' un'altra bellissima cosa l'ultima su cui meditiamo che ci ha detto Gesù questo è specialmente per chi come me ahimè comincia ad avere problemi abbastanza seri con la memoria sia sul breve periodo soprattutto ma non solo noi le cose ce le dimentichiamo in continuazione abbiamo questa infermità in questa vita terrena non è necessariamente alzheimer o demenza senile per carità perché capita anche a chi è giovane adesso ci abbiamo 370.000 strumenti che ci possono ricordare le cose no gli smartphone i po' memoria ecco le alexe varie per chi per chi le usa che ti ricordano le cose no perché perché facciamo esperienza in continuazione che purtroppo ci dimentichiamo tante volte anche delle cose importanti c'è questa situazione di miseria di infermità no attenzione però dice Gesù la volontà umana possiede con caratteri incancellabili tutto ciò che fa e che vuole fare e magari in questo momento non può fare e se la memoria dimentica la volontà non la perde capiamo la memoria dimentica ah ma la volontà non la perde il deposito di tutti gli atti suoi rimane senza che si possa sperdere nulla e chi se lo ricorda se lo ricorda l'altissimo lui se lo ricorda sicuro in ogni caso nella nostra volontà il deposito degli atti rimangono ed ecco perché Gesù dice tutto l'uomo sta nella volontà capite quanto è importante questa facoltà ecco perché il Signore no questo è uno dei classici brani che ce lo ricorda quando parla di volontà umana non sta lo ripeto ad abbondanziam come dire mortificando cioè o minimizzando questa che era più nobile della nostra facoltà creata da lui la libera volontà è ciò che ci rende forse è forse la cosa che più di tutti ci rende simile a Dio infatti Gesù ha accostato la volontà divina alla volontà umana dicendo la prima è una potenza infinita la seconda è una potenza limitata ma perché guardate che noi possiamo cioè noi possiamo fare fondamentalmente quello che vogliamo siamo noi che scegliamo di non fare tutto quello che vogliamo ma la possibilità cioè certamente abbiamo dei limiti oggettivi che se io decido voglio andare sulla luna non lo posso fare questo qui perché non ho la possibilità materiale ma ciò che ha la nostra portata possiamo fare tutto se una cosa non possiamo farla materialmente possiamo farla che ne so possiamo farla col desiderio desiderarla con tutto noi stessi e quindi di questa volontà umana le scelte che noi facciamo sono scelte significative tutte io anche oggi sono sacerdote perché perché per grazia di Dio fino ad oggi sto perseverando nella mia bellissima vocazione a suo tempo ho risposto a quello che Dio voleva la stessa cosa possono dire i tuoi sposi tu oggi sei ancora uno sposo quando va a zampallare un matrimonio un matrimonio va a zampallare perché ce l'hanno voluto mandare a zampallare certo che c'erano dei problemi nessuno può forse anche enormi d'accordo nessuno lo nega questo ma di niente il problema enorme che faccio mando a zamp a pellare al matrimonio o resisto vado avanti quella è una scelta quella mi capite no e proprio le nostre scelte sono quelle che caratterizzano la nostra esistenza e proprio la materia del giudizio davanti a Dio sarà solo gli atti della nostra volontà perché è significativo davanti a Dio solo ciò che è riconducibile alla nostra volontà a quello che fa perché lo fa per chi lo fa adesso non andiamo ecco quindi teniamoci oggi nel cuore questa bellissima esortazione questo bellissimo rinfrescare la memoria appunto su questo la grandezza della volontà umana e l'importanza degli atti che fa è che la prima cosa per vivere in questa volontà divina è volerlo veramente con tutto il cuore poi tutto il resto lo si vede dobbiamo crederci perché il Signore dice guarda che se tu lo vuoi con tutto il cuore io lo faccio se lo vuoi veramente io lo faccio e proviamo a crederci questa è veramente una consolante bella notizia un'altra che è un'altra che è Grazie a tutti. Grazie a tutti. E soprattutto quello che anche oggi ci hai detto e donato. Che possiamo davvero ritenerlo nel cuore e viverlo. E metterlo in pratica. Cogliere anche queste bellissime consonanti parole che ci rivolge, queste grandi consolazioni. Che non è così difficile. La Madonna l'ha vissuto, Luisa l'ha vissuto, tanti che non conosciamo sicuramente l'hanno già vissuto. E quindi possiamo avverla anche noi. Anche perché tu non vuoi, ne pretendi cose troppo difficili o addirittura quasi impossibili, come ci hai ricordato. Che tutti possiamo avere una buona e santa vita nella Divina Volontà. E' la Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni madre, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria